Nel mio lavoro mi trovo spesso a dover mettere d'accordo esigenze diverse, persone diverse. Ho fatto il corso con Paolo e Alessandro a settembre del 2012 a Bordighera e l'ho fatto perché penso che l'umorismo serva non solo nel lavoro ma anche nella vita. Difficile scardinare l'idea che l'umorismo sia solo una dote innata e istintiva. Nel corso si dimostra invece che l'umorismo è un meccanismo che può essere coltivato, che può essere, se vogliamo, dominato. Un corso che può essere fatto veramente dalla casalinga per gestire i conflitti quotidiani in famiglia, può essere utilizzato e può essere fatto dal manager che si trova a voler, se vogliamo, gestire anche in un modo diverso alcune problematiche che sono dai collaboratori o come capita, o come nel mio caso, quando si ha a che fare con moltissime persone, con esigenze diverse. Alla fine del corso, secondo me, ci si sente sia proprio una marcia in più sia nel lavoro che nella vita.